Buongiorno, iniziamo questo vlog così, in una postazione diversa, sono sul divano e ho appena finito di allattare Pia che si è addormentata, se io sto qua lei dorme, se io mi alzo lei si sveglia, no comunque adesso io mi alzo, la copro così vado a fare qualcosa, soprattutto preparare il pranzo perché è ora di pranzo, aspettate, adesso vi dico che ore sono, manca un quarto all'una direi che è proprio ora di fare, ma faccio un po' di pasta veloce veloce, quindi adesso mi alzo e vado, allora per rendere un po' più interessante questo video ho deciso di farvi vedere i prodotti finiti di febbraio e anche di marzo, in fin dei conti siamo solo al 24 di marzo e così almeno vi dico cosa ne pensiamo, allora, vabbè queste meringhe qui di nonna Pia che avevo preso appunto dal sito di nonna Pia ci sono piaciute abbastanza, a me personalmente non piacciono perché non mi piacciono le meringhe, però diciamo... mi sono piaciute, poi vediamo qui cosa c'è, ah, questi sinceramente non mi ricordo dov'è che li avevo presi, ah da Teddy, sono dei biscottini ripieni di crema alla nozzola, bravissima Sabrina, e beh a me non piace crema alla nozzola, a lei non le piace proprio le cose dolce perché poi le vengono le carie, ma a loro invece comunque li hanno mangiati tutti quindi sono piaciuti, poi questi che li prendiamo sempre sono i cracker integrali dell'Eurospin e anche questi qua non sono male, sono buoni, li prendiamo sempre appunto, poi la farina finissima di riso senza glutine, l'abbiamo finita ieri, che la prendo sempre in parafarmacia, non è male, è buona, c'è farina di riso, poi il detersivo liquido per la lavastoviglie, a limone, esatto, questo qui lo prende Maurizio, non so se da costo pochissimo, ho da un negozio che si chiama costo pochissimo, oppure se lo prende al conad, comunque è buono come detersivo, mi sono dovuta ricredere, io ho sempre usato le pastiglie, ma poi vedendo un video di Nicole Gimondo, spero di averlo pronunciato giusto, di averlo detto giusto, comunque vi lascio il link sotto in descrizione per andare al suo canale e il nome giusto qui sotto, nel caso l'avessi sbagliato, che lei diceva che si trovava meglio col liquido, allora ho provato a prenderlo, ho provato a prendere anche quello dell'Eurospin, che però ho già buttato perché mi sono dimenticata, e devo dire che è veramente buono, cioè lava meglio, non ha più residui, di detersivo sui piatti, sui bicchieri, poi questi niente meno snack senza glutine, questi qua sono mandorle, carota e succo d'arancia, e sono buoni, cioè i bambini li hanno assaggiati, a Gabriele piacciono, poi i biscottini di Pia, questi qui dell'Eurospin, prime pappe, anche questi qua sono molto buoni, cioè perlomeno si sciolgono bene nel biberon e Pia li mangia volentieri, devo dire che in confronto al biscotto granulato, quello già tritato, rimangono pezzi un po' più grandi, anche se si sciolgono, però comunque si sciolgono abbastanza bene, poi lei piacciono, quindi va bene. Poi c'è, questa penso che sia l'unica cosa che boccio proprio così, l'abbiamo presa al Lidl, l'abbiamo provata ad assaggiare, e non c'è piaciuta per niente, proprio per niente, perché io sentivo solamente la cipolla, e un po' di zucca poi basta, anche io la boccerai. Cosa succede? Oppa, vuoi un giochino? Vuoi la spazzola? Non mi picchiare per niente. Se non filmare la mamma. Poi, vediamo cosa c'è qui. Ah, qui ci sono dei burger vegetali, sono dell'Eurospin, ve lo ricordo, perché l'avevamo comprato noi. Cosa di funghi champignon con proteine di piselli, di frumenti e di soli. Vabbè, non mi ricordo, comunque... Ma perché quando noi ci avevi fatto mandare, ci avevi mandato alla spesa, sono dell'Eurospin. Ah, ok, sono dell'Eurospin, dice Sabrina, e sono... beh, erano buoni comunque. Sì, erano buoni. Un'ambulanza. Poi ci sono queste merendine per Pia, della Mio. Queste qui sono tre per me, la tre per Pera, le sono piaciute tantissimo. E infatti appena poi andrò di nuovo ad apaniate, le riprenderò sicuramente. Perché a lei li sono piaciuti molto. Sì, per il momento me le do i fruttini e basta. Poi, il riso integrale, vabbè, dell'Eurospin, è il mio preferito per fare le insalate di riso. Perché mantiene benissimo la cottura. Rimane, diciamo, un pochettino più sodo in confronto al chicco normale bianco che invece si spappola. Però ho scoperto anche per il riso bianco una cottura ad assorbimento che mi è piaciuta molto, che ho già sperimentato. L'ho vista nel canale YouTube di Anna Gloria, vi lascio sempre il link sotto. E devo dire che è una buona idea, perché il riso rimanga sodo, cioè comunque che non si spappoli il chicco, ecco. Poi, questi fish burger dell'Eurospin, vabbè, sono buonissimi. A Giorgia non piacciono, ma perché in generale non le piace tanto proprio il pesce. Però una volta tu che l'avevi fatti mangiare di nascosto e lei l'avevi già detto che erano buonissimi. Non questi, gli piaceva l'altro. Sì, ciao. Non mi ricordo. Comunque questi qua sono molto buoni. Ah, c'è il merluzze. Poi ci sono i bocconcini, mozzarella. Erano buonissimi. Buonissimi, ma volendo si possono fare tranquillamente anche in casa, comprando le mozzarella, impanandole e friggendole. Niente di così. Poi, sempre per Pia, ci sono queste merende, banane e pesca. Banane e tre pesca. Sì, sempre come le alte. Come pera e mila. Sì, e sono buonissime, quindi appunto le riprenderò. Poi avevo preso i pizzoccheri all'Eurospin, abbiamo ancora una confezione. Sono buonissimi. Sono buonissimi. A Gabriele quelli senza glutine non sono piaciuti tanto. Perché sono più scuri. A me non mi piacevano. A parte il fatto che erano più scuri, ma rimanevano proprio più duri. A me non mi piacevano proprio quelli. Ah già, da invece non sono piaciuti. Agli altri bambini invece sì. Diciamo che per cambiare un po' non sono male, ma anche questi volendo si potrebbero fare tranquillamente a casa con la farina di grano saraceno. Oppure con la farina integrale. No, con la farina di grano saraceno. Sono fatti di farina di grano saraceno. Poi ci sono le punte di asparagi. Non sono una verdura che io amo tantissimo. Però per cambiare un po'... Quando è che l'avevo mangiata? Avevo fatto il risotto. Ah sì sì. Molto tempo fa. E quindi per cambiare una volta li ho presi. Ma non è che sia una delle verdure che amo particolarmente. Ah, qui c'è il risotto, quello che avevo preso al Lidl. È stato buonissimo. Di funghi porcini. Era veramente molto buono. Era buonissimo. Io l'avevo preso scontato al Lidl. Pia si nasconde. Al 30%. Dov'è Pia? Eccolo lì. Pia si nasconde. Pia, dove sei? Dov'è Pia? Dov'è Pia? Pia le piace molto nascondersi e lo fa con ogni cosa che le piace. Vabbè comunque questo qui era veramente molto buono. I pezzettini di funghi erano abbastanza piccoli per i bambini. Ma anche sufficientemente grandi per gli adulti per sentire il fungo. E comunque era buono, è rimasto cremoso. Dietro ci sono le istruzioni su come farlo e seguendo le istruzioni è molto buonissimo. Ma no, ma fai anche quello lì di senza glutine. No, quello là sono quelli che abbiamo finito adesso a marzo. Lo dobbiamo fare ad aprile. Poi, qua c'è gli spinaci, vabbè questi qui porcionati sono buoni. Io ci aggiungo un po' di formaggio e vengono come quelli di quattro santi in padella. Sì, ma quelli sono anche più molto buoni. Senza glutine ci sono anche questi biscottini. Per la colazione. I miei sono piaciuti molto, molto. Ah, siamo ancora in tempo. Per la colazione della cereal. Sono i cereali e gocce di cioccolato. Gabriele li ha finiti, ce li ha mangiati tutti. Perché li sono piaciuti molto, vuol dire questo. dell'Eurospin. Ho trovato questo amido di mais. Che ha... Adesso vi faccio vedere. Giada, scusa, puoi vedere se si vede, se sono giusto. Si vede la scritta senza glutine. Aspetta, aspetta che... Sì, non vedo. No, non si vede la scritta senza glutine. Devi avvicinare la tuta. Scusa. Dov'è che c'è scritto? Prima di tutto. Comunque se c'è scritto lì nei paraggi... Qui, è scritto qui. Dove c'è il mio dito. Ecco, senza... Senza glutine, lì. Sì, sì, si vede, si vede. Ok, è senza glutine. Io non lo sapevo, quindi è un'ottima scoperta. L'abbiamo messo, sì. Per andarlo a prendere comunque. Amido di mais. E boh, basta. Poi, sempre per Pia, ho provato questa crema di cereali e avena, che si è un po' ammacchiata qui. Era buona, cioè nel senso. Io la uso sia per farli ogni tanto, invece della pastina, col brodo, col passato di verdura, e li faccio ancora anche la crema. Oppure ne metto due cucchiaini nel latte. Oppure gli faccio la pappa con latte per merenda. La pappa lattea e un fruttino. E l'altra volta, che l'ho fatta vedere anche nel video, di questi giorni, l'è piaciuto molto se l'è mangiata. Tutta. Poi... Adesso non si vede praticamente che Pia. Perché? Perché c'ha il braccio davanti. Poi ci sono queste castagne a vapore, morbidissime, che ho preso all'Eurospin. Le ho provate per assaggiarle, perché le ho viste sul canale YouTube. E a me sono piaciute un po'. Mastra, cosa fai tutto questo castagno? Aspetta, mamma, gli do questo per giocare a Pia. Ma va! Pai, dov'è Pia? Dov'è Pia? Eccolo a me! Vuoi dire anche tu? Cosa vuoi dire di queste castagne? Che hanno madone. Le ho assaggiate anche tu? Sì. Ci sono piaciute? Avete capito? Sì. Le ho viste sul canale YouTube di Una Fetta di Paradiso, che vi lascio sempre il link sotto. E ma... A me non sono piaciute tantissimo. A me non fai tutto questo casino, la smetti. Cioè, sono buone le castagne, ma queste qui non mi sono piaciute molto. Poi, per Pia c'è ancora un'altra merenda, fragola e lampone. Sempre tre. Le sono piaciute tutte quante, non è che... Non cambia niente. Una è allo stesso... Allo stesso. Poi, della Luppi Lu, invece, all'Indo, l'abbiamo preso. Questa purea di mele e banana, biologica. Cosa succede? Cosa c'è? Cosa c'è? Vuoi un gioco? Vuoi andare per terra? Vuoi venire in un braccio? Vuoi un bacino? Vuole un abbraccio. Vuoi un abbraccio? Oh, un abbraccio. Aspetta, mamma. E l'ha spostato un pochino. Ecco. Ora si vede tutto. E niente, quindi ci sono queste qui. Le sono piaciute. Comunque, devo dire che non sono niente male, anche il prezzo. Adesso c'è l'acqua perché sono le sue. Allora, la mettiamo qui. Va bellissimo. Va bene? Se la metto qui? Sì, sì, sì. Si vede. Poi, da Paniate avevamo preso questi grissini, che c'erano anche fatti così a grissino. Ce n'erano anche a cuore, come si abbia scritto Meli. Sì. E che erano più cracker quegli altri. Le abbiamo mangiate tutti noi. Sono apposta per i bambini, ma Pia non... Non li piacevano. Non li mangia. E quindi alla fine li hanno mangiati gli altri bambini. E anche la mamma. Ci sono altri, a quelli a cuore. Sì, ne abbiamo già detto. Poi, invece, della Plasma. Quelli li a Pia di sono piaciuti tantissimi. Questi qua erano sei vasetti. E a Pia di sono piaciuti tantissimi. Frutta mist, quattro frutti. Diciamo che ho notato che preferisce la pera, mela e banana. E soprattutto quelli un po' più dolci. Questi qua, quattro frutti. Che tipo c'è l'arancio, la bicocca, che sono frutti un po' a sprignoli. Non è che li garbano tantissimo. Non è che li piacciono molto. Però li dobbiamo dare tipo una volta ogni due o tre giorni. Non di seguito, perché sennò vi schifo un po'. E poi, qui abbiamo questo, che sono gli italini delle asolane, che sono senza glutine. E' pasta fatta con solo farina di mais, se non sbaglio. Sì, è pasta di mais, cioè non solo farina di mais, però è pasta di mais. E' pasta senza glutine anche. Sì, è buona, è buona, è senza glutine. E' senza la marca, è senza glutine. C'è scritto grosso come una casa. Pasta senza glutine. Ma qua. Eh, e tu l'hai fatto qua. E vabbè, non vedo. Vabbè, comunque... Io lo faccio vedere, perché da qua non si vede molto. Va bene. Vai. Le registre che fanno le cose. Adesso vi faccio vedere, queste olive alla scolana. Buonissime, le abbiamo mangiate con quelle lì, con dentro la mozzarella. Io non le avevo mai assaggiate, devo dire che sono buone. Queste ecco, da fare in casa, magari con le olive giganti ci si potrebbe anche provare. Però senza i semi. Ma se no, ma sì, certo, se no non lo metti a ripieno. Ma con quelle normali diventa veramente un lavoro... Perché sono piccole, comunque. E buona. Comunque erano buone. Poi cosa abbiamo ancora? Ecco. Qua vi dicevo appunto i pizzoccheri senza glutine. Eccoli qua. Sono quelli di Gabriele, questi. Sono della marca Farabella. E niente, a Gabriele non sono piaciuti tanto. La confezione è da due atti e mezzo. Ma poi è piaciuto, sì, tantissimo. Invece, ecco, sì, a Maurizio sono piaciuti. Però anche lì va molto a gusti. Già, da si legge tutto, Pia, smetti a tu. Poi, ecco, sempre della Luppi Lu. Avevamo preso appunto anche questi omogenizzati alla pera, che le sono piaciuti. Luppi Lu? E poi, quando ci siamo fatti i biondi, io e Giorgia all'inizio, e avevamo usato questa tinta qua della Nordic, che c'è sia così, che è molto schiarente, aia, e poi anche per fare le mesh. E niente, comunque. Se l'abbiamo tirato in bagno, che non l'abbiamo usata. No, no, è un'altra. Il risultato è venuto comunque buono. Sì, sì. Anche qua dietro. Già, fammi vedere se si vede bene. Questo si vede bene. Sì, si vede benissimo. Ok, come vedete, dà la tonalità del castano. Fa vedere come viene biondo. Allora, mamma, lì sì, è venuto questo biondo. Ah, a me. E l'ho scritta. E niente, comunque è buona se volete schiarirvi i capelli, o volete... Che l'abbiamo presa da Teddy. No, dal Bennett. No, questa è dal Bennett, la prima volta, poi la seconda volta... La seconda volta era nata da Tigotà, non da Teddy. Ah, sì, ah, sì. E niente, se qualcuno vuole se si avessi caperto e farsi le mesh, se le trova in Venita nei supermercati, perché comunque con questa emergenza tante cose non le vendono, c'è questa. E poi, per ultimo, ma non per importanza, vi consiglio, ma proprio a gran voce, il perlana. Non solo questo verde, che Pia adesso vuole, ma tutti i perlana, perché hanno un profumo. C'è anche uno giallo. Ce n'è di tutte le profumazioni, nel tempo poi vedrete tutte quelle che ho. È buonissimo il profumo, lava bene, c'è anche rinnova bianco, c'è rinnova... Nero, e poi ci sono questi qua, di tutte le profumazioni possibili e immaginabili, anche la lavanda. E' veramente un ottimo prodotto. La lavanda è un profumo ricaduto. E poi c'è scritto che è la cura per capi delicati, ma io in realtà lo uso per tutti, non solo per la lana, perché proprio lascia un profumo fantastico e non serve l'ammorbidente, assolutamente. Quindi, niente, ve lo consiglio, i prodotti sono finiti. Io spero che questi prodotti, fatemi sapere se anche voi li usate, cosa ne pensate. Se avete qualcuno da consigliarci, da provare, o che magari... Se te, mi mette a fuoco. O che magari voi volete che io li prendo per assaggiarli, per dirvi come sono, che vi faccio una recensione. E niente, quindi ci vediamo più tardi, perché adesso dobbiamo fare i lavori. Allora, intanto che si bolle l'acqua, e io ho già scaricato e ricaricato la lavastoviglia, volevo farvi vedere questo. E' tornato il lavandino! Allora, praticamente per questo devo dire, grazie a mio padre, abbiamo fatto dei numeri assurdi, proprio per la situazione, quindi per non andare comunque a rischiare né loro né noi, però siamo riusciti a riavere un lavandino. Purtroppo, cioè, non si poteva stare senza, era veramente invivibile la situazione. Io vi assicuro che, oltre al fatto di non avere più la libertà, mi sono accorta che cose, cioè, stupide, no? Che uno dà per scontate, come può essere il lavandino, quando non ce l'hai, ti accorgi di quanto sia importante una piccola cosa che tu in realtà dai per scontata e non valorizzi, insomma. L'unica cosa che abbiamo cambiato è sotto il rubinetto che noi avevamo già comprato, avevamo lì, dovevamo cambiare, non so se ve l'avevo detto in qualche vlog precedente, precedente, perché l'altro perdeva, era più alto così, e visto che abbiamo montato questo qui, abbiamo montato questo nuovo, visto che quello là perdeva, adesso dobbiamo ancora aggiustarlo, perché l'abbiamo attaccato male, ma a parte quello, ho di nuovo un lavandino, il che non è poco, adesso lì c'è la roba che devo andare a lavare a mano, tranne quella pentola che ho dimenticato di mettere nella lavastoviglie, lì devo andare a pulire le piastrelle, perché è schizzato il sugo ieri, qua c'è l'acqua che sta scaldandosi, adesso ci vuole mettere i coperchi, e qui c'è poi la roba per fare le unghie oggi pomeriggio, e lì devo mettere a posto le cose. E niente, praticamente la situazione è questa, adesso io mi sbrigo e mi metto a pulire un pochettino. Voglio chiedervi scusa per il 23 che non è uscito nessun video, ma come vedrete dal vlog, come avrete visto dal vlog, è stata una giornata veramente pazzesca, abbiamo cucinato tutto il pomeriggio, al mattino comunque loro hanno avuto le video lezioni, le conferenze, e quindi quello che sono riuscita a fare è stato quello, sì Sabrina, basta, e quindi non sono riuscita a pubblicarvelo, mi dispiace avervi lasciato un giorno senza, però dimmi. Io intendevo questa sirenetta. Eh, ma se non c'è su Netflix, cosa faccio? Mi sparo. Quindi niente, adesso vado a pulire come vi ho fatto vedere, quello che è il disordine. E vi faccio vedere la mia bozzetta con la sirena. E niente, ci vediamo un po' più tardi. Ciao! 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 Come avete visto, ho iniziato a farmi le unghie. ho trovato un tutorial qui su YouTube per mettere le tip. Queste, finte. Tanto Sabrina e Gabriele stanno facendo i compiti. Allora, ho iniziato appunto, dicevo, ho trovato questo tutorial su YouTube, e adesso poi andrò a tagliarle perché non posso mica tenerle così. Come si fanno a fare i lavori così? Da cogliere, da cogliere le tarze. Da cogliere le monete. Da cogliere, da cogliere le monete. Da cogliere, da cogliere le bottiglie. Mamma, per infilare. Potrei fare un video poi dove vivo per 24 ore con le unghie così lunghe. Cosa dite? Fatemi sapere nei commenti se mi dite di sì. Quando poi le rifaccio, le facciamo il video. Adesso però li metto di nuovo velocizzati, così almeno non sto a fare un pippone. e ci vediamo quando ho fatto tutte e due le mani. Tutte e due e pure uno? No, tutte e due. Le faccio tutte e due e poi ci vediamo quando praticamente le vado a tagliare. Ah, io pensavo a mettere lo smalto. Allora, la prima mano è fatta. Io ho messo una torta lunghe a pinta da domani. Adesso le vado a tagliare anche perché così, cioè... Sarebbe veramente una sfida secondo me. 24 ore con le unghie. Con queste unghie qua. Cioè non riuscire a tagliare. Adesso lo faccio io. Quindi adesso le vado a tagliare e poi le limo perché sennò questa mano non ce la faccio mica farmela con queste unghie. E quindi... Mi dispiace perché siete bassi. Allora, siamo a questo punto e ancora non le ho tagliate. Ho paura. Anche perché non ho il tagliatips. Perché piano piano arriverà tutto quanto. Ma ho le forbici. Quindi devo stare attenta. E' un po' di scuola. Non vi faccia vedere. Volete vedere che la tagliate? Ohhhh! State a vedere, state a vedere. La mamma vi dà il permesso. E' mio, Laura! E' la tutta la mamma, è bella. Ehhh! Così? Se la vuoi così tanto è lunga. Così? Vuoi come è la vuoi? Decidi tu. Fammi vedere. Così? Faccio questa lunghezza qui. Vabbè, ovviamente devo andare a limare. Ma poi io le posso fare rotonde. Sì, basta che poi le limi con la limetta. Adesso che sono tutte corte, adesso le vado a limare. E li metto i miei template. Sì, perché sennò... ... 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 con questa inquadratura cosa c'è Pia? guarda sei qua guardati chi c'è lì? c'è Pia? c'è Pia lì? ciao Pia ah volevi vedertene che bella sei tu? hai visto? eh sì brava sei tu è Pia quella lì perché Pia nasina sporco? perché si mette vabbè in pratica no no sei calma sei calma vabbè dicevo che questa mano è fatta Pia non la vuole fare vedere e adesso andrò a fare anche l'altra quando Pia smetterà di giocare con la fotocamera ecco le qui che sono pronte ho cercato di farle più o meno uguali ma non è mica facile comunque l'hanno fatta anche Sabrina e Giada solamente però in due dita mingalo e anulano io l'ho potuta fare in queste due dita lo saprete perché io sono vivendo e niente adesso vanno a mettere il gel prima però giro le cosce di tacchino allora la prima mano è fatta anche con lo smalto gel ne ho fatte quattro fucsia come ha vinto nel sondaggio di Instagram che ho fatto oggi e una color oro aspettate eh ma così non mette mica a fuoco ecco ho messo a fuoco comunque le ho fatte così adesso ci sono un po' di sbavature ma d'altronde non è che sono un estetista io adesso vanno a farla anche da questa parte l'oro l'ho già messo adesso vanno a mettere il rosa solo un po' si sbagliava sì perché c'è tutta una storia di allora vi faccio un ultimo aggiornamento e poi ci mettiamo a mangiare ho finito le ho fatte tutte e due io ora mi sto facendo lo smalto guardate come sono venute ora fino le imperfezioni si vedono ma da lontano vanno bene mi piacciono un sacco sinceramente adesso vediamo ma li fate bene dice che li fate male ma li fate bene adesso vediamo quanto durano le ho fatte oggi che è il 24 marzo vediamo quanto tempo mi durano appiccicate senza saccarsi dopo cena le faccio a Giorgia li vedete dopo i colori che ha scelto lei e niente e vediamo poi la lunghezza se le vuole lasciare così come le ho io oppure se le vuole fare più corte più lunghe no perché poi ti riesce a fare niente comunque ci vediamo dopo 1, 2, 3, come on 6, 3, come on 6, 3, come on 6, 3, come on